buonasera a tutti quanti e scusate ma ripetiamo buonasera tutti quanti siamo sempre noi solamente noi zaganelle mentale quella zeta maiuscola è tutto attaccato e siamo sempre e solo noi due con io io sono violanda e lei è sole esatto sì anzi anzi sarà vostro vostro obiettivo scoprire che è sole che viola tanto dopo tre secondi inizierei a chiamarmi sole infatti no 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 a parte questo insomma a parte scherzi se siete ancora arrivati qua se siete arrivati qua ad outlast veramente bravi un applauso penso di aver fatto vomitare mezza italia ieri esatto esatto quindi veramente grazie grazie di sopportare sole e le vomitate epiche che ci fa fare benissimo io direi che possiamo continuare outlast 2 prego allora cerca stavolta di insomma di non farci vomitare perché mi hai fatto venire dieci minuti dopo mi hai fatto venire ma sì ma secondo me è proprio quel pezzo che era così perché altri pezzi non mi ero sentita così tanto male insomma ma non ne ho idea io negli altri due outlast ero un po più vabbè però io ripeto sempre una cosa di abitudine questo sì che poi tra l'altro piccolo piccola cosa quando abbiamo giocato il secondo episodio io sono sentita male per tutta la sera tutta la sera avevo quella sensazione orribile quindi alla fine non mi ha molto aiutato avrei dovuto prendere un giochiettasi abbiamo abbiamo superato la insomma quello che insomma io non ho ancora capito se un uomo o una donna sinceramente credo quella capirà alla fine del gioco comunque non lo capiremo mai ma io sto volando no no sembra che stai volando ma è perché l'ombra non è attaccata al piede quindi sembra che sto volando allora che è successo nell'altro episodio di particolare niente ma niente niente di speciale l'altro non abbiamo scoperto assolutamente ma zero zero dico dio questa è un piccata sare come tutti gli altri ha pure l'occhi lucidi oddio sare batteria dici ma forse sta dentro no è una luce vabbè dentro sicuro troviamo una batteria però ma comunque tutto normale in queste case comunque si stavo stavo notando stavo notando stavo dicendo stavo dicendo che il nell'altro episodio nel episodio precedente in realtà non abbiamo scoperto quasi niente solo che questo questo blake che siamo noi e ha mischiato un po diciamo il passato col presente e questo l'abbiamo notato tra l'altro non abbiamo scoperto niente di questa dio che paura non abbiamo scoperto niente sul fatto oddio sul sul fatto di questa ragazza che è scomparsa noi siamo noi a noi proprio siamo andati là in questa zona dell'arizona questa zona dell'arizona ragazzi che linguaggio appropriato sì sì esatto tagliano corrigiuto tanto forse devi registrare un cadavere no perché hanno ammazzato la vecchia viori mi hanno ammazzato ovvio la zona non piccato abbiamo poteva non cercato allora hanno fatto bene stavo delirando ma sì insomma stavi santificando i pesci e pesci pesci no comunque sì sì insomma non abbiamo scoperto niente noi siamo andati proprio in questa zona per scoprire di questa ragazza di questa ragazza questa bambina ragazzi perché poi per scoperto cosa c'aveva 15 anni c'aveva insomma niente non abbiamo proprio perché sto riprendendo la chiesa non abbiamo scoperto assolutamente niente o forse ci stiamo avvicinando in realtà adesso alla verità non so tra l'altro abbiamo abbiamo scoperto che outlast 2 è più lungo di outlast il primo sì sì ma il doppio e sarete con noi ben ragazzi 8 9 ore dipende se sole muore come un topo prima o così io non entrerò in questa porta cioè sembra la porta della casa di mia nonna sinceramente non c'entra comunque oh ecco panzone qua con me ma io sto panzone davvero bene allora chiudi la porta aleandro no al reverendo profeta aleandro aleandro roberto i fernando perdinando allora ma ma piccola sappiamo nella stessa chiesa di prima no no quello mio nuovo quello mio nuovo ma liberiamo e vai mi scusi ha bisogno di una mano questo sato maso da vedo un po mary mary not not il profano prendi la mazza dai la vedi la mazza non vedo un cazzo non vedo non lo so vai la giuda ah ma perché io non capisco questa questa scrittura giù e c'è scritto proprio giuda eh non non ho visto nella io la jay la vedo come una v eh perché è morto oddio è morto no è vivo dai allora fai qualcosa dai a parte gli hanno cavato gli occhi oddio che schifo adesso l'ho visto ah perciò oddio che schifo oddio dai dai che schifo c'è un po' di pomodoro nell'occhi però devo trovare qualcosa la patto si è tirata dalle fronte no dai battutacce ragazzi oh mio dio ma se le battutacce sono ben accette sono ben accette cazzo dobbiamo fare non so cerca qualcosa c'è un coso un zaino un zaino però non è qua eh niente allora dobbiamo fare qualcosa lì è bloccato è bloccato ma fa fa cazzo non è che non lo piglio a pugni che devo fare ti accego con la luce dalla telecamera che devo fare prendi logo a botte con la telecamera che abbiamo scoperto tra l'altro che in tutti i outlast cioè noi ci rompiamo le gambe no ci franturiamo tutte le ossa ma la telecamera non muore mai cioè ragazzi questa è proprio oh no però erano due eh accendi la telecamera tazzo qua vedi ho capito qualcuno no io stanno passando loro oh dio sare chi è? eh ma dobbiamo vedere la scena forse non so eh no spostati dall'altra parte se tanto questo mi sa che non te vede eh no secondo me scendi ah no se si vede dall'alto guarda girati ecco vedi un po' oh dio eccolo è lui è il cicciatone bozzicone ok oh bravo ecco stai fermo no torna un po' indietro così vediamo oh bravo sta proprio qua ammazza tutto molto normale avvicinati un po' girati un po' eh no non si vede dell'alto ah no vedi che c'è questo si stanno attirà oddio oddio se le vabbè se si trottia un po' la schiena oddio ma stanno cercando le nostre moglie eh sì comunque noi non abbiamo avuto molte scelte cioè nel senso lui non lo potevamo uccidere no come lo uccidi poi non c'è niente uccidere ah c'è assediare dell'alto sai che si può anche uscire no no non uscire io non lo so questa cosa cioè vuoi uscire capirai muori no però aspetta non uscire quanto buzzicone non ha moglie tanto serio questo è evil buzzicone guarda la donna vediamo la donna è morta la donna ah è una donna perfetto ah è quella Mary che c'è eh sì sì è Mary adesso non ha le gambe più tagliate di una pezza 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 ma nonna che violenza lui tranquillissimo è un'altra giornata di merda anche oggi e anche oggi non vengo pagato mamma mia che fine che ho fatto qui manco me pade no aspetta una sì eh questo ci ha preso lasciato noi abbiamo visto niente no aspetta 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 vedi bene la scena no no non posso lo sapevo questo sta aprire le porte che sta aprire te giuro io ho una paura che aprono queste porte all'improvviso la miniera ah ora ce le fanno ora riprende ma doveva riprende prima sto genio ma doveva riprende tutta la scena doveva riprende eccola e c'è le pompe fuori signora eh sì si è proprio spaccato tutto vedi oddio mamma mia che schifo oddio lo stomaco che sono seduta male ho paura che mi si rompa il ginocchio per questa scena allora no io infatti mi sono allontanata un po' dagli oggetti perché se salto almeno cioè non posso oddio saree dai cioè ti prego no vabbè saree dai cioè oddio vabbè io ti do gli occhi dimmi quando hai superato questa lui l'hanno solo pugnalato e basta comunque penso che adesso possiamo entrare qua a meno che non c'è buzzicone che caga no allora se ne dobbiamo andà ma dove dobbiamo andà ha detto le miniere eh sì però la troviamo e dove stanno a che parte staranno salvataggio un brutto segno le miniere di Moira messa così e sotto sopra messa così è giusto Moira invece di Moira di Moira le famose miniere questo mi ricorda tantissimo salentino ma è uno struzzo ma che è? ah il corno ma no ma è sempre quello arriva una testa di struzzo ma mo i seminieri dove stanno? che cos'è quella? ah sempre la madonna la statua da madonna sì sì hanno riaperto le porte e la si vede cazzo e mo? vabbè lì è aperto quindi penso che dobbiamo andare lì ma prima non era aperto? no oggi c'è qualcuno no è una ruota perché non era aperto prima questo? no 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 noi siamo entrati da di là di qua ah ok vabbè non fa niente di tornare allora ma stiamo andando bene ma poi perché nelle miniere ah nelle miniere ci sta ci sta la nostra moglie no capito ma che la cercano sotto terra che ne so vabbè è già morta dice ma già condannata eh che palle che devo tenere premuto non c'è troppo silenzio zitta qua c'è pure il maestro vabbè ecco fa che ci sia una pila una pila solo una ne chiedo ah lì c'è una porta e qui ah è murata ok eh mo chiedi pure la pila pila che poi ho scoperto che se tu lo tieni così non si scarica la video camera che senso? si scarica solamente se metto il verde ah beh beh certo perché tu hai la visione di un turno camminare nel buio beh se buttamo se ammazzamo ho capito ma dove dove ma non so se ah sì ok fai un bel salto io sarei morta qua sicuro conoscendomi e stiamo andando dentro il palo di un'edito sì più che altro sto con la faccia proprio per terra ok è cascato tutto ma ti vuoi alzare cioè stavamo proprio a faccia a terra oddio la pila grazie bene ma quante pile abbiamo? poche forse devi saltare no forse devo riprendere eh sì anche oggi è una bella giornata per stare qui fuori con l'accetta davanti al fuoco che bello che è l'aria fresca di montagna guarda quella stranza di mia moglie che oggi non ha cucinato adesso mi tocca stare qui fuori adesso soprattutto mi tocca aspettare qualcuno da mangiare quindi noi questa è la moglie questa è la moglie che mi ha prosifisso ma no penso che mi debba non voglio buttare sì ok beh allora noi andiamo a fastidio magari al tipo perché perché insomma mi scusi che ansia comunque ma cosa si è messo un vestito un vestito a fiori ma no è la tuta quella classica dei campagnoli la salopetta sì come si chiama forse dobbiamo scavare no ci sarà un buco o un coso aia aia infatti ci stanno le spine che cazzo devo fa non lo so allora metti allora metti sta luce io non ah sempre la madonna ma dove viola questo gioco mi sta facendo brutti scherzi no non credo di andarla girati se costeggia il cactus che ti appunto quello si oh ok immaginavo che ci fosse vabbè lui sta lì noi entriamo in casa sua scusate che da qua si può salire no c'è una finestra invece di entrare dalla porta che ci sente entriamo dalla finestra oh forse in realtà ci sente di più con la finestra chiudi guarda se mo non ho chiuso e ce ne spuga da dietro il culo mamma mia davvero oh oh non piange al piccolino è una nonna non lo so e lì c'è la benda vorrei prenderla questo è il bar oddio si guarda là c'è sta anche la porta oddio oddio è morto è morto quello certo che è morto questa è una bambola è un altro bambino una bambola no è una maschera se tu ti giri dall'altra parte verso destra 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 eccola ci sta la porta ma questa mi urla no lo so io non voglio vedere no se non puoi scavalcarli che palle cioè in bocca gli dobbiamo andare oddio questo si gira all'indietro oddio oddio ho troppi film ho visto io non voglio guardare oddio oddio la sbattuta no cazzo non c'è la cosa l'asera si eh si oddio sbrigati sbrigati brutto segno ok no che cazzo fai coglione rincoglionito dovevo uscire e chiudere la finestra no c'è perde non la chiude ah è troppo alto ok eh le alieni no come fate queste cose che c'è ah eh salve maledetta quella mia mia moglie che oggi non mi ha cucito eh vabbè andiamo via eh non so se forse devi passare proprio da lui non lo so capito no forse no ma dove dobbiamo andare ma una una via una discrizione santo cielo no troppo dispersivo andiamo qui in mezzo in cosi che sarà gran ma che cazzo è tutta esterba eh sì sarà ok ok siamo arrivati secondo me ma abbiamo superato il vecchio non ho capito non è sì perché no sta lì davanti oddio eh beh più o meno l'abbiamo superato no io penso tu gli debba proprio andare là e girarti perché tu devi entrare da questa porta mi sa oh oh però quel rumore questo secondo me questo se arza e fa buonasera e proprio non lo so questo secondo me c'è secca allora prendi la decisione capire dove devo andare quella è aperta sì no è chiusa è aperta no è aperta non so se le deciditi io vado alla finestra eh signore non dica non faccia oddio è rotta ok no vuole è rimasto là oddio oddio e adesso è ora non era una roba extra è la finestra no non c'è nient'altro aspetta aspetta girati un attimo non vedo bene ma non c'è nient'altro non c'è qua guarda sopra guarda sopra no no allora non lo so forse era una cosa di bonus mi pare strano però sì sì ma sa di sì no invece ma sa proprio di sì panocchia eh panocchia violanda se ne intende di panocchia eh sì certo ma secondo me io dovevo non parlare tipo mi scusi ah ma lì è aperto scusi eh non non faccia caso a me io devo solo uscire ok e ora ma noi qua ci siamo appena entrati ma no infatti da qui veniamo no credo che devi tornare là c'è qualcosa lì dentro la casa allora no non è possibile ci siamo appena stati eh torna con noi guardiamo bene ma forse c'è una chiave non lo so eh io però guarda dovunque mi pare strano mi pare strano però è di solito ad autos a sedere oddio le chiavi ma io questa finestra prima l'ho aperta e l'ho chiusa certo no io ma un po' superentrà dalla porta ah certo io ho chiuso la porta a fine ho chiuso tutto ecco i coglioni no vabbè ma che davvero devo far giro dici che si sveglia questo eh prima o poi si sveglierà si ma non è che è lui che c'ha qualcosa no non lo so io eviterei di avvicinarci troppo se poi questo si sveglia c'è problemi poi oppure a red bull entra un attimo in casa voglio vedere un attimo bene sì magari siamo scordati qualcosa non lo so non si illumina un cazzo eh sì vabbè non si illumina nulla qui c'è stanno il cibo il pull eh ah questo che cos'è scusa aspetta un attimo asere vai davanti al tavolo eh e qua c'era solo questo eh l'hai preso? sì sì no no non è possibile eh ma ci deve essere stessa secondo me se doveva attivare la vecchia ma solamente che noi siamo stati così bravi che non l'abbiamo attivata eh non penso non faccia caso a me eh signore non si disturbi ma forse in questo siamo persi qualcosa boh una strada no so questo gran turco non se vede una ceppa poi che è? eh oddio si è attivato si è attivato il vecchio o no? non ci credo no secondo me c'è un'altra strada e noi non abbiamo messo possibile ora si è attivato il vecchio parere della perfidia umana del mondo però no noi non si è attivato parla parla solo questo ma forse non è lui dobbiamo seguire le voci forse non so quanto comporta bene a e qui le voci no questo è un vicolo cieco no c'è qualcosa che stiamo sbagliando è un'altra strada secondo me secondo me cosa è che è un'altra strada cosa è che io riusco a vedere non so se eh vedi ma di qua forse era di qua che dovevamo andare ma non ci siamo già andati qua ah ma infatti no io quello non lo ricordo c'era il mulino no non c'era il mulino prima no non c'era il mulino manca la musica salvataggio si è il posto giusto per il fatto eravamo solo perse si non so questa è già su chiusa sarei io ma io entrerei batteria ci serve un'altra batteria siamo qua un po' secco le batterie ok siamo nel mulino ok ora è per il mulino il mulino no ma che devo passare là ma no eh si vedi lì c'è una porta ci trancerà se sbagliamo dobbiamo passare là no aspetta qui c'è una porta vedi prima che c'è fuori no no forse dobbiamo aspetta aspetta ci sono delle scale ok che è che è lui mi si è girato matto è girato da solo ma c'è qualcuno che urla quindi è come se nasconditi eh allora c'è qualcuno se l'è oddio sali sopra forse ci sta qualcosa c'è qualcosa c'è ma è scemo vabbè lui gira da solo ma fa più dei corpi vado che ansia oddio ok si vabbè oh quanti cazzi però nel buco dobbiamo tornare nel buco eh quanti cazzi eh la leva è questa è la chiave oh eh c'è mentre se dovremmo abbassare dovremmo passare qui vedi e lì c'è la luce vai non passa matto aspetta vai non passa è scemo adesso mi devo stendere ancora eh devi proprio stenderti forse oddio mi ammazza eh no non passa vai passa non ci va è matto ma che palle addio però mamma mia quei problemi come cazzo faccio ah mi faceva la porta ma 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 fa il culo allora che serviva quello se non mi faceva passare forse la manovella serve per fermarlo c'è una batteria lì capito serve per fermarlo dici non si butta così adesso adesso probabilmente troveremo tutto il mondo no perché la musica può migliorare che agonia questo gioco che agonia ma soprattutto che nausea ok installa no pure muratore adesso vai la tocca ripetutamente mamma mia che casino ecco adesso ritorna lì dovrebbe essere tutto fermo esatto che fa sale qui signore c'è sale qua questa ricarica aspetta aspetta sale lo stronzo matto comina vai vai battene aspetta 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 vai vai oh dio vattene corri non vedo una città vai vai vattene vattene dove però non ho idea buttati sì vabbè alzati ma dio migliore segui la luce non lo so no forse dovremmo segui la luce non ho idea io butti una batteria no no siamo non so dove sennata io lo so però vattene lo so eh 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 oh oh io no no eh ah 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 eh 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 proprio vado 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 tornata qui oh e dove cazzo dove andava allora non ho idea da qui oh no è la signora la suora che palle oh ma questa è una vita non sa fasta oh capitolo uno ma stiamo a fa caso si ok oh oh ho trovato tutto ho trovato tutto però adesso vattene perché ma scusa se poi siamo salvi si tutto il gioco vogliamo rimanere qua certo no eh ma io non so minimamente dove devo andare lì eh prova che ne so io non lo so io che morte io non lo so io c'è una porta c'è una porta non lo so io non si apre ah c'è qualcosa ok vai dai dici che il granaio è la soluzione più sempre vero e che ne so io non lo so dove stiamo andando se stiamo andando bene ma manco io lo so vabbè regà mi brudo il naso ah scusate non mi dice ce la potevo fare ok penso che sia qui no 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 troppo il gancio ma attaccaci una mucca ma che davvero no che palle no e dove lo devo trovare io mo' sto gancio ma aspetta girati a sinistra ok no c'è no niente no no sono tormentato un piede che palle ma che dobbiamo tornare tornare indietro no dai ma usa una corda ma dai ma un po' di fantasia oh trovo un gancio ma farlo a mani nude no gli faceva tutto schifo che palle no no probabilmente non starà mai qua probabilmente sei fuori con quella dai a capire ma dove sta il gancio eh infatti la catena il gancio no lì c'è la catena eh boh no ma non mi voglio perdere per cercare un cazzo di gancio che non sappiamo dove che palle vedi una luce dimmelo che eh non lo so prova di là eh beh dentro la vasca c'entri? no probabilmente no ah qua è dove abbiamo trovato la battuta io che paura ho spiga di grano noi dobbiamo andare indietro non ne ho idea buono non ne ho idea eh che? ah non lo ha fatto ancora che? è cascato ah ricarica ricaricare meglio ricaricherei quando ricaricherei eh qui? mmm lui sta con me il gancio ok questo è nuovo mi ricordo questo io oh forse sta qua in parte oddio che è? niente madonna raga il gancio lo troveremo sicuramente qui eh oppure no ma che oh ma lui fa da solo comunque gira se muove fa come gli pare io non te l'ho chiesto no si vabbè raga cioè ma chissà ricorda tutta sta strada mo eh il rumore è provocato dalle mosche sì che tra l'altro credo che lei stia qui però perché ah mi stavo tutta in gatto che palle mamma mia ma sì ma fattola da qua no no oh mio dio oh mio dio ma che cos'è che violenza alla panza stai ferma così può registrare eh ma fa da solo io non so fare niente non lo ho registrato tutto eh perché ti muovi eh vai no ma davvero ma che c'è ah no non è la strada ah e quindi che stai in mezzo davvero ti stai chiedendo questa cosa qui adesso in mezzo frigo orifero ok poi mi sa che qui gancio eccolo eccolo vedo tira la catena si 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 ok oddio oddio scappa oddio ti muo stai trovando un buco io ce la uso io ce la uso oddio che paura ce l'hanno chiuso dentro ce l'hanno chiuso dentro ieri ce lhanno chiuso dentro c'è sta il coso quello il il frignettino vai esci da là vattene e se lui non è un ricoglionito vado 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 ok vai ritrovo in bocca me la ritrovo in bocca me la ritrovo in bocca ti sicuro me la ritrovo in bocca vai 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 non so se la direzione giusta io non me la ricordo eh no non me la ricordo no serena non è qui non è qui ah si è qui 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 vai 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 ok che metti il gancio questo cazzo di gancio ok non è qui nel video nel video nel video Ok, ok, andiamocene Non di là, girati dall'altra parte Ok, vai, scappa Bravo Blake La cosa giusta è detta Non di qua, no, non girati Vai, là, bravo Vai, vai, vai Perfetto, vai, bravissimo Ok, le scale, vai Le scale Le scale, le scale sono la soluzione Non sono mai la soluzione ad Outlast, le scale Ok Vomito è la soluzione Cazzo, e mo? Che cazzo ne so, chiusa? Aspetta, aspetta, fammi vedere Ah No, ah, ok Pensavo fosse la scuola per davvero Ma lui sta avendo un'allucinazione Nel momento sbagliato Oddio Oddio Mamma mia No, sì Eh, se l'ultima volta c'è stava la tipa da capelli lunghi Oddio Vedo una minchia Ah, sì Oddio La cosa che mi ha chiesto è Oh, foglio Grazie, Blake È trasparente Oddio 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 ragà Oddio Oddio ma dove? Oddio 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 Sì, però, eh, cioè, meno vomito, però, eh. Allora, scusate un attimo, ma secondo me, eh, opzioni. Oddio. Beh, mi senti male, io? Eh, sì. Ah, io levo del tutto la sensibilità della visuale, perché veramente già la faccio. Già la posso fare, non ce la posso fare. L'ho levata troppo. Eh, sì, poi, ma non c'è stato proprio... Cioè, no, non hai capito? Non mi spostava a destra a sinistra. Basta, basta. Eh, non faceva questo. Madonna, veda. Oddio, oddio, che ansia. Prima o poi incontreremo la vecchia. Ma quale vecchia? Ma che ne so? Ah, sì, sta male fa, la stessa strada sta male fa. E qui è chiuso, quindi per forza non restai là! Oddio mio. Guarda, ragazzi. Io mi sto sentendo male, io. Te, ma io... Qua siamo ancora con le... Con le glazze... Ah, qua c'era la porta. Scusate, un attimo... Devo un attimo assentarmi, vi lascio con sole. No, ma che scherziamo! Allora, ragazzi, moriremo male, anche perché qua sto perdendo la pila. E quindi... Sì, sto perdendo la pila, sto perdendo la pazienza, oltre che... Dovremmo aprire qua. Ah, oddio, un altro corridoio buio. Oddio, sì, questa è accesa. No, niente. Niente. Come non detto? Come non detto? Mamma mia. Vomiterò? Porca puttana ladra, la bastarda. Quella grandissima zoccola. Porca... Se c'era Violanda, si metteva a ridere. Che famo? Andiamo qui? Ma sì, dai, andiamo qui. Eccomi, scusate. Guarda, ti sei persa a me che urlavo... Non urlavo, che lanciavo tutti i santi perché sti cassetti si sono aperti all'unisono. Oddio, no. Non si, hanno fatto... Mannaggia, mannaggia che me l'ho persa. Meno male che me l'ho persa, guarda. Oddio. Sì, no, vabbè, io vomiterò prima o poi. Oh, oh. Che era? Che? Ho sentito il rumore. Ho sentito il rumore. Allora... Allora... Allora sei stronzo. Eh sì, ma non fatemi vomitare, però. Oddio. St'ammazzata. Ora si è chiusa. Oddio. Mamma mia, che cazzo di paura. Vaffanculo, con il gesto che ci fai gli scherzi. Lui c'è un impiccato... Volemo giocare? Oh, 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 quelle. Oddio. Ah, mo funzionano i mortacci due, eh. Oddio, raga. Oddio, ma sta sentando male. Posizioni lucido. Posizioni lucido. Ok. Eh no, trascinano. Ah, no. Pensate. No, vabbè, raga. Questa è carina come cosa, questa è carina. Ci serviva comunque un... No, devi ancora spostarlo? Spostalo. Eh, questa così non me lo sposta. Eh, grazie. Ok. No, troppo. Eh, insomma. Basta. Allora, le lettere non sono allineate, ma penso che ci dobbiamo comunque avvicinare noi lì e leggerlo direttamente. Allora. Onf, org, p, a, a, no, scusate, mi sa che mo' devo scrivere perché... Unforgive? Unforgivable? Unforgivable? Sì. Unforgivable? Indimenticabile? Sì. Ok. Ma quella cosa è una F? Non la vedo. Sì, 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 è una F, è una F. Ah, e allora sì, sì. È indimenticabile, esattamente. Unforgivable. Cioè, ci sono andato a caso e comunque... Comunque è bello sto gessetto... Per logica. Ma che è? È incredibile. Non lo so. Vabbè, dai, vai a... Vai allinearli, se no questo rompe i coglioni. No, secondo me non li allinea. Come no? Eh, no, perché più di tanto non me lo faceva mettere. Ah. Lo devo tenere premuto. Non li alline... Non vado più avanti né più indietro. Ah, ok, va bene, va bene. Quindi per me è un Forgivable, punto e basta. Sì, sì, vabbè. Oddio. Oddio, l'hai visto? Sì, volevo vederlo. Oddio. Oddio, raga. Ma sto a cagare sotto. Ma vuoi vedere che lei si è ammazzata per colpa di lui? Chissà che gli ha fatto. Può essere. Eh, ma allora mi prendi per colpa. Qui? È la stessa da prima. Prima non era aperta. No. Eh, oddio, raga. Oddio. Da che è stata aperta una porta? Oddio, raga. Oddio. Oddio, oddio, oddio. Oddio, ma sto a cagare sotto. Lì non era aperta quella. Eh, in realtà è quella di prima, eh. Prima siamo andati di qua. Vedi? Le avevo già aperte tutte. Ah, no, allora non è questa la direzione, sarebbe. No, non è questa allora, sarebbe. Allora mi sto a chiedere se effettivamente dovessimo allinearlo meglio o qualcosa. Non ne ho idea, però il coso non vibra più, quindi probabilmente non è questa la direzione, allora. No, non penso, sarebbe. Penso che devi tornare indietro. Già, lo penso anche io. E' che palle. Sì, no, ma quello vibra sempre. Non è che vibra, non vibra. Ok. Ma non è che dovevamo salire qua. No. Ah, no, lì è da dove siamo venuti. Ci hanno partorito. Bloccato. Aspettatele. Che c'è? Girati dall'altra parte. L'altra parte, l'altra parte. E' chiusa. Ah. Io avevo già provato questo, perciò. E allora non lo so dove dobbiamo andare. Allora. Eh no, vai dall'altra parte. No, non di là, vai dall'altra parte. Sì, per forza. Eh no. E allora dobbiamo lineare quel cazzo di cosa che io allineare. Sì, per forza, per forza. Io chiudo, non se sa mai. Però io non, cioè, non si allineava. Ma che ha di che sposto i banchi in sto stronzo? Ah, ma non è che se... No. Eh, non lo so. Ok. Ok. Ah, perché puoi spostarlo davanti a sinistra. Allora, se li avviciniamo. Ah, eccolo, ma va con culo. Oddio, vai. Fatto? Eh, forgivable. Eh sì che l'ho fatto. Se devo andare là adesso. Ho fatto qualcosa, è successo? No. Eh, ora sì. Dio! Eh, vabbè, ma non sei così rincoglionito, dai. Lo leggi, unforgivable. Vabbè, questo è rincoglionito. Lo devo spostare ancora di più, secondo me. Ah, forse un bucca gli devi andare. Lo devo rimpicciolire ancora un po', me ne so. Che ne so. Eh, guarda! Vabbè, cioè, sei rincoglionito, però. No, vabbè. Ma tutto bene. Mi sembra giusto. Ma ne ho ordonati. Comunque. Vabbè, adesso si aprirà. Che cazzo devo fare. Vabbè, esci da qua, intanto. Forse sei sbloccato qualcosa. Ah, il prato, sei sbloccato? No. Il prato. Ma che ne so, ho prato felice. Ok, la musica prima non c'era. Ok, quindi la direzione giusta c'è la musica. Non c'era. Oddio. Oddio. Dobbiamo tornare indietro, dobbiamo tornare indietro, perché la porta è chiusa. No, lo so. Oddio, che ansia. Oddio, ragazzi. Veramente mi sto cagando sotto. Mortacci di chi fa questi pezzi a scuola, veramente. Ma era così lungo? Io me lo ricordavo così lungo. Sì. E là è vuota. C'è un'altra cosa c'è l'incubi sulle scuole? Mamma mia. Ah, io non ho capito cosa... Sai che ti dico, Violanda, che è ora che noi ci fermiamo. Ma no, dai. Dai, altri due minuti, dai, su. Almeno, vediamo che cazzo dobbiamo fare, su. Tanto dice, sempre è bloccata, non sappiamo che cazzo dobbiamo fare. Ma che palle. No, però adesso ci può. Ma da l'altro ora mi sputa, lo, 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 donna a capelli. La donna a capelli. La donna a capelli. Ma poi... Questa era... Era aperta. Eh, infatti. Suscribe. Stavo per dire la stessa cosa io. No, dai, dobbiamo trovare una via d'uscita, santo cielo. Ma forse non è qua, Sere. No, è per forza qua. No, è forza dall'altra parte, proprio. Ma noi ci siamo appena stati dall'altra parte. Eh, per? Interagire. Dovevamo accendere il videoregistratore. Oh, mio Dio, ragazzi. Ah, no. Dobbiamo spostare. Vabbè, io direi sì che forse nel momento la vedo lunga come cosa. Quindi noi ci vediamo nel prossimo episodio di Outlast. Noi ricordiamo sempre di seguirci sempre su nostra pagina Instagram e sul nostro canale. E noi ci vediamo nel prossimo episodio di Outlast. Una bella! Una bella! Scusate. Noi ci vediamo nel prossimo episodio di Outlast. Ciao! Ciao!